Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio della nostra rubrica Comprare o No? Oggi parliamo dello Structure Traptrix, prodotto che in tantissimi avete richiesto e che quindi ho anticipato di parecchio rispetto al solito. Vi ricordo che questo scatolotto arriverà da noi fra una decina di giorni e quindi nella pratica il 23 febbraio. Iniziamo dalla obbligatoria scheda tecnica, il mazzo conterrà in totale 46 carte, 40 di meno e 6 di extra e includerà praticamente la stragrande maggioranza delle carte di archetype che sono necessarie per far funzionare bene il mazzo che è una cosa ottima e mai da dare per scontata. Considerando anche il fatto che contiene 6 carte di extra, se acquistate 3 per più o meno avete anche un extra deck abbastanza completo. Abbiamo 5 ultra, tutte dedicate alle carte nuove tematiche e 3 super, due di questi sono effettivamente carte di archetype mentre invece la terza è a sorpresa Ively ed essendo uscita foilata purtroppo qualche cosina comunque costerà anche se esce da Structure. Per quanto riguarda il mazzo in sé non ho molto da raccontare nel senso che Traptrix grazie alle nuove 8 carte riceve un boost in potenza e in generazione risorse e anche in consistenza veramente considerevole e per farvi capire un po' meglio magari leggiamo riassumendo un po' gli effetti di queste 8 nuove carte. La Link 3 è un power pump di più mille attacco per tutti i mostri tematici e questo va a includere anche se stessa. Può spegnere effetti mostro e se lo fa bannando una carta trappola del cimitero rompe anche una scoperta. È incredibile perché solo esistendo va a tamponare forse il problema più grosso che aveva questo mazzo che era quello di possedere tanti mostri e una buona capacità di swarmare ma avere mostri che però erano abbastanza piccoli statistiche e quindi facevano una fatica terribile nell'andare sopra a cose diciamo attorno ai 2005, 3k o più. Quindi questa è probabilmente una delle carte che apprezzo di più in questa nuove di supporto. Poi Pudica è flessibilissima perché ci dà modo o di cercare la terreno se la andiamo a normalare oppure se viene specialata va a levare un mostro dell'avversario bannandolo. Non è però così tanto forte perché non è un removal davvero punitivo visto che l'avversario nella prossima standby avrà modo di specialare un suo mostro dai banditi quindi anche non quello che gli abbiamo bannato ma rimane comunque in effetti utile magari per aiutarci a pulire board quando abbiamo bisogno di menare e di avere campo libero. La nuova Xyz come la stragrande maggioranza dei mostri del tema non soffre le trappole e ha la particolarità addizionale di essere unaffected dagli effetti attivati dei mostri che condividono un tipo con i suoi materiali Xyz. Staccando uno cercherà mostri tematici ed è preziosissima perché se rimuoviamo mostri dell'avversario dal terreno tramite effetto mandandoli al cimi o anche bannandoli potremo attaccare uno di questi mostri sotto di lei come materiale rendendola quindi ancora più difficile da rimuovere dal tavolino grazie al primo effetto che vi ho illustrato qualche secondo fa. In più può potenzialmente anche scombare con Pudica ed il suo Banish. Ottima carta che se è appoggiata subito sul board ci aiuta a negare le risorse al cimitero del nostro avversario. La terreno regala una summon addizionale, protegge la distruzione per battle o effetto una volta per turno e bannando un mostro speciale un traptex da cimi o mano. Molto carina e grazie a Pudica è anche abbastanza cercabile. Tune è un filtro per la mano che ci fa scartare pezzi poco utili per pescare due e bannandola dal cimitero possiamo riciclare mostri 4 o trappole bandite di nuovo dentro il mazzo. Però di questa way di supporto è forse la carta che mi piace un po' meno. Arachno protegge le nostre settate e se abbiamo un mostro traptrix si speciala qui da mano. Cilocca l'extra ha solo piante o insetti ma sinceramente non è un gran problema visto che comunque il mazzo 90% delle volte quelli vuole calare fuori da extra deck. Olotea è una specie di brigantina 2.0 attivabile nel turno in cui viene settata scartando uno. Entra come un mostro pianta normale e se nel cimitero la possiamo bannare per specialare un mostro tematico. L'ultima carta è il Terrifying Trapple Nightmare. Kyowakuno Toshihana, che nome incredibile. Ci racconta che se l'avversario speciala uno o più mostri in questo turno possiamo targettare un mostro che controlla con 2000 o più attacco. Lo andiamo a schiantare e se abbiamo una carta trappolo a buco normale nel cimitero possiamo anche bannargli un mostro al cimitero. Questo è tutto per le novità, come ho detto anche prima, carte sinergiche utili per il mazzo e che sono andate a tamponare alcuni problemi che questo deck si è sempre portato dietro. Diamo quindi un'occhiata ad alcune delle ristampe più interessanti. Le carte migliori penso saltino subito all'occhio ma sono senza sorpresa Ash Blossom, che servirà sempre da qui alla fine dei tempi, Raigeki, Spolverino, Imele e due Kaiju. Meno clamorosi ma comunque utili per il deck in generale, il Gravedigger Trappol, che è preziosissimo per Traptrix, la Brigantina e infine un buon assortimento di carte abbastanza farcito per i nostalgici del formato ETH. Se non avete mai avuto il piacere di giocare con questo mazzo nelle sue precedenti iterazioni, la strategia molto sinteticamente è che vogliamo andare primi, provare di montare una board vagamente stabile con sicuramente almeno la Link 1 Traptrix, se tutto va bene magari un Xyz di quelli nuovi dietro, e qualche trappolina per dar fastidio agli avversari. Così potremo andare a interagire sulle sue summon tirando i trappol del caso e andremo a generare costantemente risorse grazie alla Link 1 e non solo. Chiaramente, essendo una strategia control, anche se vagamente riamodernata, si porta lo stesso presso tutti i problemi che hanno questa tipologia di mazzi. Dobbiamo partire per primi, siamo molto spesso arcounterati con una quantità di carte assurda che purtroppo circolano e sempre circoleranno in main deck o nel side, e il going second senza andare a sedare davvero tante carte dentro il mazzo non è mai semplice. Arrivati a questo punto siamo obbligati dalla legge a porci la solita, classica ed eterna domanda. Vai la pena acquistare questo prodottino in 3x oppure no? E la risposta qua è molto semplice, ma dipende molto dalle vostre esigenze ragazzi. Se vi serve più di un playset dell'estipo ristampate qua dentro, sono sincero con voi, a questo punto tanto vale acquistare il mazzo, soprattutto se magari vi manca Evenly, perché comunque vi va a lasciare una basetta abbastanza giocabile di un control che è di tutto rispetto, non sarà mai un mazzo da tier super forte della vita, però rimane un rogue carino che per essere sistemato a puntino richiede davvero un investimento minimo di una decina d'euro in singole, che nella pratica sono tutte comunacce o comunque carte ristampate letteralmente 30 volte. E questo è sicuramente un plus rispetto ad altri structure che abbiamo ricevuto in passato. Se avete già tutte le staple e siete già in possesso di un mazzo, comunque sia rogue o dintorni, sinceramente nonostante il prodotto sia validissimo, probabilmente invece potete tranquillamente schipparlo. E infine, se siete nuovi giocatori o in generale persone che tornano a riaffacciarsi a Yugi dopo tanti anni, questo è probabilmente uno dei migliori scatolotti per riprendere confidenza con il brand, perché il mazzo è davvero facile da pilotare e da imparare e vi lascia una base di staple solida per buildare un domani qualcos'altro. L'ho già detto anche prima, ma a livello di potenza Traptrix, anche nella sua forma, perdonatemi un po' il termine, senza limiti, super soldi, difficilmente sale sopra lo scadino del rogue e non è al momento paragonabile al più fortunato Labyrinth, che ora come ora è probabilmente il control più in forma del gioco, ma come ho già detto prima, rimane uno dei pochi mazzi di questa tipologia vagamente giocabili con un po' di dignità nel 2023 senza prendere dei turboschiaffoni in viso. Se vi piace il playstyle e non volete spendere un'infinità per Labyrinth, potrebbe essere un'alternativa economica da considerare. Direi quindi che possiamo terminare il video del giorno qua, come sempre se avete un attimo fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa pensate di questo prodotto e soprattutto cosa combinerete voi, quindi se lo acquisterete prenderete solo qualche singola oppure sarà un easy skip. Vi ricordo anche che volendo è possibile acquistare il prodotto anche dal link che trovate qua sotto pinnato utilizzando il mio codice sconto. Per anticipare una domanda che mi aspetto qua sotto nei commenti, settimana prossima arriverà con calma la profile classica che portiamo sempre del 3 per Distructure e anche la lista, fra regolette, pompata, senza limiti. Non so se la porterò io o se la porterò a te io, ma comunque di dritto o di rovescio la troverete qua sul canale. Io vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ciao!